Nel 2023 e nei primi mesi del 2024 i militari della Guardia di Finanza d'Abruzzo hanno svolto 8.541 interventi ispettivi e 4.252 indagini per contrastare gli illiciti economico-finanziari. Sono solo alcuni dei numerosi dati sviscerati stamane dal comandante regionale Germano Caramignoli nella conferenza stampa in occasione dei 250 anni del corpo, i cui festeggiamenti culmineranno questa sera alle 18.30 in Piazza Duomo. Sul fronte dell'evasione fiscale i finanzieri hanno individuato 215 evasori totali, mentre per il contrasto al lavoro nero sono 924 i lavoratori irregolari o totalmente sconosciuti. 14 i casi di evasione fiscale internazionale. Comandante 250 anni della Fondazione del Corpo, oggi si traccia un po' il bilancio di quelle che sono le operazioni del comando Abruzzo, quali i settori più importanti su cui siete intervenuti? Certo, oggi il nostro anniversario costituisce una straordinaria occasione per fare una riflessione da dove siamo partiti e soprattutto dove siamo arrivati. Devo dire che le attività operative del comando regionale Abruzzo e di tutti i reparti dipendenti nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024 sono state molto soddisfacenti, molto importanti e ci hanno permesso ovviamente di consolidare il nostro ruolo di polizia economico finanziaria in questo territorio. Certo, sicuramente oltre alla tradizionale attività che noi conduciamo nel settore delle entrate, quindi a contrasto dell'evasione e delle frotte fiscali, abbiamo incrementato anche l'attività a contrasto delle irregolarità, degli abuse e delle maverizzazioni in campo della spesa pubblica. In questo settore ovviamente una parte importantissima hanno attirato la nostra attenzione le risorse del PNRR.